Grazie a tutti. Lo chiediamo con la domanda del giorno, ma insomma rispondeteci via social, su Twitter, su Facebook per capire un po' come la pensate rispetto appunto all'incidenza dei robot nella nostra quotidianità. Vediamo anche i risultati, tra un istante lo chiedo alla regia, ecco qui come siete divisi, insomma migliorerà o peggiorerà la nostra vita? E beh c'è un vantaggio di chi dice, del fronte di chi ritiene che migliorerà. Immaginiamola, pensi esattamente così, il professor Panfili che è presidente dell'Accademia di Robotica Europea. Professore, grazie e bentornato. Buonasera a tutti, salve. Anzi, io le chiedo subito, che significa la robotica applicata alla chirurgia? Significa un salto avanti, un miglioramento delle condizioni esecutive dell'atto chirurgico. Pensate semplicemente che con la chirurgia robotica si riesce a perfezionare al 99,7% l'esecuzione del gesto, cioè della tecnica chirurgica specifica. Considerando che un medico, un bravo esperto chirurgo può andare intorno all'80-85% di precisione. E si riesce a realizzare in tempi molto agili, abbassando i costi in sanità, perché fondamentalmente l'intervento in robotica è mini-invasivo. Di quanto, professore, se ci dà un'idea, mentre vediamo delle immagini che ci danno conto davvero delle applicazioni pratiche, di quanto si abbassano i costi? Perché è interessante questa storia. Di molto. Quello che vedete intanto andare come filmato è una procedura che viene fatta con una sorta di navigazione, come un piano di volo quando si deve volare. Tramite un'attacca ad alta discriminazione si tagliano delle fettine estremamente sottili dell'organo che si deve studiare e si descrive una traiettoria, una rotta precisa che viene eseguita dal robot. Perciò non è la mano dell'uomo che viene sostituita completamente, almeno nella chirurgia robotica della colonna vertebrale dei grandi segmenti ossei. Allora, tra poco saluto anche gli altri due ospiti che continuano a parlare con lei anche delle altre applicazioni e di quello che davvero possono fare a posto di noi umani. Meglio, peggio, tutte domande evidentemente aperte. Alessio Viola, ci dai un po' il senso della giornata anche su quello che trovano i nostri telespettatori sul sito di SkyTG24? Assolutamente, rieccoci qui sul nostro touch, è inevitabile che la nostra giornata viaggia anche sui nostri social, commentate con l'hashtag SkyRobots e anche su internet. Ecco questo è il nostro sito internet SkyTG24.it, qui c'è un po' tutto sostanzialmente. C'è quello che trovate in onda, quello di cui abbiamo parlato in questa giornata, questa mattinata e questo pomeriggio, l'ascesa dei robot, le conseguenze sull'occupazione, tante infografiche, SkyRobots, vi ricordo appunto l'hashtag, con tutti i temi di cui ci stiamo occupando. Tante storie, tanti dati e c'è anche una cosa divertente per riuscire a entrare in una realtà assolutamente attuale che è quella dei bot, perché noi parliamo di robot, ma ci sono anche i bot che non hanno niente a che fare con quelli che una volta erano bot e CCT. Sono un'applicazione, se immaginiamo i robot come un'entità più articolata e più complessa di esecuzione di qualsivoglia cosa, i bot sono delle applicazioni di cui comincia a essere molto frequente l'utilizzo, anche risposte automatiche. Scopriamo tra poco, ti prometto che facciamo anche un quiz, come questi bot possano anche scrivere interamente dei testi, possano fare sostanzialmente il lavoro nostro di fatto. E faremo vedere anche, ci sono online dei testi scritti da colleghi, Federica, e dei testi scritti dai bot. Sarà difficile riconoscere la differenza. Allora, non anticipiamo troppo, altrimenti poi leviamo tutta la suspense del caso. Alessio, lo facciamo il giochino tra poco, dimmi quando sei pronto, perché ci basta una tastiera e poi davvero vi diremo e vi chiederemo appunto anche ai nostri ospiti chi ha scritto cosa. I bot fanno parte della nostra vita, sbaglio. Nicola Bruno, buon pomeriggio, collegato con noi da Milano, e Raffaele Mastro-Lonardo, buon pomeriggio anche a te. Ciao a tutte e due, siete coautori, autori insieme, della scimmia che vinse il Pulitzer. Chi è questa scimmia? La scimmia è un software che scrive degli articoli giornalistici. Noi l'abbiamo conosciuta un po' di anni fa in un laboratorio dell'Università di Chicago, quando appunto abbiamo scritto il libro. All'epoca era soltanto un prototipo, invece adesso è diventata una vera e propria figura presente in alcune redazioni. Basta pensare che Associated Press, che è una delle più grandi agenzie giornalistiche al mondo, ogni trimestre pubblica più di 4.000 articoli scritti interamente dalla scimmia, che non sarebbe altro che un software, un bot, che a partire da alcuni dati, a partire dai trimestrali delle grandi e piccole aziende, scrive in automatico, in pochi minuti, un articolo con i risultati finanziari appunto, e questo articolo poi viene pubblicato sull'Agenzia Generale e fa il giro di tutte le testate che sono abbonate ad Associated Press. Ecco, questo significa, Raffaele, che dobbiamo un po' tremare, cioè che domani, non dico domani, ma insomma dopo domani qui al mio posto, o al posto di tutti quelli che fanno il nostro lavoro, potrebbe esserci un robot. Al tuo posto magari no, nel senso che viene richiesta una presenza fisica che in questo momento un robot non può offrire in questo senso, ma diciamo che per alcune funzioni che oggi espletano i giornalisti, i robot, o quantomeno i bot, potranno essere dei degni sostituti. Al momento i bot funzionano meglio in quegli ambiti che sono ricchi di dati, cioè laddove ci sono molti numeri, molte cifre che vengono aggiornate molto velocemente, i bot fanno un buon lavoro nel sintetizzare questi dati, nell'interpretarli, nel tradurli in linguaggio naturale. Nicola aveva fatto l'esempio delle trimestrali delle aziende, si può fare anche l'esempio degli sport, la scimmia di cui noi parlavamo nel libro, ha iniziato a scrivere di baseball. Il baseball è uno degli sport più ricchi di dati ed è anche strutturato in modo che singoli eventi avvengono uno dopo l'altro e possono essere quantificati molto più facilmente, quindi la scimmia era diventata molto brava a scrivere di baseball, tanto che era difficile distinguere un articolo scritto da lei e da un articolo scritto da un giornalista sportivo. Per rispondere alla tua domanda, in realtà il rischio di sostituzione non è così imminente e non riguarda tutto l'ambito della produzione giornalistica, perché ci sono cose che i bot non possono fare oggi e probabilmente non potranno fare domani, cioè ricevere una soffiata confidenziale da qualcuno oppure effettuare un'inchiesta molto complessa. Ci potranno però aiutare, potranno aiutare un giornalista in carne ed ossa a sviluppare inchieste molto complesse magari scovando dati, interpretando dati, aiutandoci ad interpretare dati. Allora, per sentire il pensiero e l'opinione anche del professor Panfili che ci ha visto e ci ha raccontato un po' come viene applicata nella chirurgia alla robotica, dicevamo dei bot. Vi facciamo vedere il servizio che ha preparato per noi Davide Saltuari, perché sono il futuro del mercato digitale e probabilmente non si torna indietro, guardate. Nella tempesta di messaggi online scatenati dai dibattiti elettorali tra Donald Trump e Hillary Clinton oltre un milione di tweet non è stato scritto da esseri umani. No, con buona pace dei complottisti gli alieni non c'entrano. A scriverli sono stati dei bot, diminutivo di robot. I bot sono software in grado di scrivere testi perfettamente logici. Escano da un database tutte le informazioni di cui hanno bisogno e, seguendo le istruzioni di un algoritmo, organizzano le informazioni in modo logico, coerente e spesso indistinguibile da quanto scritto da un essere umano. Bot vengono già usati per aggiornare i lettori del Los Angeles Times sui terremoti minori in California, per scrivere le cronache delle partite di baseball o di basket, per i report delle agenzie di rating sull'andamento dei titoli e per invitare le persone ad andare a votare. Vengono usati dei quotidiani americani per chattare con i propri lettori ed è stato un bot che ha permesso a un 55enne svedese, Sverker Johansson, di scrivere oltre 2 milioni di voci su Wikipedia. Spesso sono bot che lasciano commenti falsi su Instagram o fanno incetta sul web di biglietti per i bagarini. E in Giappone un bot ha quasi vinto un premio letterario. Neanche i test online distinguono ormai tra i testi umani e i testi artificiali. Amati o odiati, i bot sono già parte della nostra vita quotidiana e, secondo quanto affermato da Sacha Nadella, CEO di Microsoft, saranno le nuove app. David Saltuari, SkyTG24 Avete sentito che c'è uno che ha vinto un premio letterario. Chissà, potranno vincere anche i Nobel, i bot, professor? Sicuramente Biscardi e Sanremo potrebbero coadiuvarsi con dei robot, secondo me. Però poi dobbiamo tornare per terra e pensare quali sono le reali utilizzazioni in ambito sanitario. La robotica in ambito sanitario facilita, ma non sostituisce completamente la mano umana. Sarà possibile in futuro operare in remoto, per esempio con un chirurgo a Roma, che opera un paziente a New York. Tutto questo è possibile, ma non è il robot che decide. Deve essere sempre inizializzato dall'uomo. Il perfezionamento è dovuto alle estreme evoluzioni delle tecnologie diagnostiche. Per esempio un attack ad alta risoluzione consente di impostare un piano di navigazione che guida per le traiettorie, per aggredire il punto chirurgico, per la tecnica al massimo della precisione. Però è sempre l'uomo che deve decidere, che deve utilizzare quel canale. E guida, certo, assolutamente. E il leader nel settore sono gli israeliani, che hanno sviluppato le tecniche più evolute. Io appunto ho approfondito questa tecnica in Israele. Abbiamo fatto il primo intervento circa quattro anni fa in Italia, a livello europeo, con la chirurgia robotica. E sarebbe auspicabile andare avanti. Ovviamente servono investimenti, però l'agevolazione è che un intervento che richiede un'adegenza di 3-4 giorni, con 12 ore, 6 ore, viene dimesso al paziente per un'ernia. Questo che segna che i costi sociali ovviamente sarebbero ridotti. Lei pensi che il mal di schiena costa 1,5-1,7% sul PIL come incidenza. Perciò riducendone l'impatto, l'assenteismo dal lavoro, riducendolo diciamo del 90-80%, avremmo un guadagno immediato. Altro che finanziare, referendum o altre cose. Parliamo di pratica, risoluzione dei problemi. Ecco, come sai, di referendum non ne parliamo praticamente tutti i giorni. Vogliamo fare però un giochetto, un quiz insieme ad Alessio Viola. Perché guardate un po' che cosa ci fa vedere Alessio, sempre dal nostro sito. Eccoci qua. Allora, sempre sul nostro sito, basta loggarsi, è semplice, bisogna soltanto scrivere il proprio nome sostanzialmente. e accedete a questa sezione che abbiamo pensato per chiedervi se siete in grado di distinguere fra un breve testo scritto da un bot, quindi scritto da un software, e uno scritto invece da alcuni nostri colleghi, evidentemente. Ok Alessio. Sì, Clemente. Speriamo di no, perché poi il risultato può essere qualunque. Però vediamo se siamo pronti di distinguere. Un testo scritto da un essere umano, da uno scritto. Iniziamo. Testo 1. Amazon.com ha riportato un utile di 857 milioni di dollari. nel secondo trimestre dell'anno. Io non ho la sola risposta. La compagnia di Seattle ha dichiarato un utile per azioni di 1,78 dollari. I risultati hanno superato le aspettative di Wall Street. Chi ha scritto, secondo voi, a questo punto lo facciamo insieme, Secondo me è un computer. Andiamoci perché sono tante domande che facciamo rispondere anche agli altri nostri ospiti. Vado? Computer, dai. Computer. Vediamo un po'. Ok. Computer, esatto. Quest'articolo è stato generato dal software Wallsmith ed è stato pubblicato da Yahoo in inglese. Così è andata. Continua, ce n'è un altro. Ho bisogno di qualcosa di reale. La sola cosa che mi fa impazzire è il tuo respiro. Adesso però. E non importa cosa abbiamo fatto. Qualsiasi cosa potrebbe essere una volta in una stella, una volta nel mio cuore. Non lo so. O è un computer abbastanza evoluto. Professore, chi l'ha scritto? L'uomo è un computer. Questo è un computer innamorato, secondo me. Esatto. Andiamo allo computer innamorato. Esatto. Era un computer. Bravo, professore. Era un computer innamorato. Anche se, insomma, ci abbiamo provato. In stile Justin Bieber è stata generata da un software di poesia statistica che si chiama Sweet Spare. Quindi si può insegnare la poesia anche ai computer. Facciamole un altro. Facciamo rispondere adesso agli amici milanesi, a Nicola Bruno. È morto Leonard Cohen, è una notizia, tra l'altro, di qualche giorno fa, il leggendario musicista e poeta canadese, riferimento indiscutibile dei cantautori. Negli anni 60 il cantautore è morto a 82 anni e la notizia è stata data sul suo profilo ufficiale di Facebook. Sì, in realtà io ho contribuito a preparare il quiz, quindi so già la risposta. Sei tutto, non ti possiamo niente. Allora rispondiamo noi in studio. Secondo me c'è una ripetizione. Due volte cantautore potrebbe essere un errore umano. Esatto, l'uomo, l'uomo che sbaglia più del computer a questo punto. Esatto, come vedi, se c'è un errore vuol dire che è umano, quindi alla fine esce fuori così. Aspetta, prima di andare avanti, sentiamo appunto da Nicola e Raffaele dove le avete trovate tutte queste informazioni, visto che noi stiamo andando a tentative, però poi il risultato è, sono vicinissime, quello che può scrivere un uomo a quello che può scrivere il computer. Come l'avete fatto questo quiz? Sì, in realtà alcuni articoli sono proprio articoli pubblicati online, date state, come dicevamo prima, su Seated Press. Altri invece, come quello in stile Justin Bieber, sono esperimenti fatti con dei software di generazione automatica delle parole. In questi casi si insegna la macchina a pensare, a scrivere come determinati autori, ad esempio in quel caso come Justin Bieber, ma lo stesso esperimento è stato fatto anche con Shakespeare con altri autori. In altri casi ancora, quando si vede ad esempio la presenza di troppi aggettivi o troppi avverbi, lì è un po' difficile che l'abbia scritto un bot, che l'abbia scritto un computer, perché questi programmi ancora hanno grosse difficoltà proprio in questi ambiti qui. C'è nel trovare degli aspetti più qualitativi, delle scale un po' più graduate e meno schematiche, meno riconducibili a un database. Comunque diciamo che gran parte di questi test oramai sono online, circolano e sono intorno a noi. Altri sono creati per esperimenti nei laboratori e altri ancora arrivano via chat direttamente sui nostri smartphone. Ci sono tantissime app oramai che appunto si basano su dei bot per darti un'informazione personalizzata, in alcuni casi anche geolocalizzata sulla posizione in cui ci si trova. Va bene. Alessio, andiamo avanti? Ancora domande per noi. Credo che siano otto in tutto. C'è quest'altra. Donald John Trump è stato eletto 45esimo presidente degli Stati Uniti lo scorso martedì, nel sorprendente culmine di una campagna esplosiva, populista e polarizzante che ha inesorabilmente preso di mira le istituzioni e gli ideali tradizionali della democrazia americana. Ci sono un sacco di aggettivi, come dicevate prima qua. Professore. Quando sono ridondanti allora potrebbero essere opera dell'uomo. L'uomo. Quando sono più brutti alla fine è l'uomo di mezzo. Esatto. È stato l'uomo. Se c'è l'errore, se sono pomposi c'è l'uomo di mezzo. Non ci lascia pensare, Alessio. Si sta mettendo male, Federica. Sì, malissimo per l'uomo. Si sta mettendo malissimo. Penultimo. Per ora vince 6-0-6-0. Mi sa che poi andiamo a casa dopo questo. Marvin Mischi, 88 anni, è scomparso lo scorso 24 gennaio a Boston, Massachusetts, a causa di un'emorragia cerebrale. Nato nell'agosto del 27, dai genitori, i nomi dei genitori, vado un po' veloce, è noto per il suo contributo pionieristico nel campo dell'intelligenza artificiale. Addirittura qui si parla proprio di questo. E questo l'ha scritto il computer, dai. Perché è semplice anche, tu dici. Andiamo a computer? Esatto. Bravo. Noi stiamo beccando, eh? Cioè, in questo siamo bravi. C'è l'ultima, credo. Saffèle, ci stiamo comportando bene, vero? Guardandoci qui rispondendo ai quiz. Benissimo. Siamo sorpresi dalla vostra abilità di riconoscere la differenza tra un uomo e un computer. E non l'avevamo già fatto. I risultati non li sapevamo, eh? Facciamo l'ultimo. Facciamo l'ultimo. Così procede il risultato. Acquazzone, 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 acquazzone. Pioggia o pioggia o pioggia. Vabbè, qui avete. Parapioggia, parapioggia o paracquazzone, paragoccia d'acqua. Una serie di parole. Come è umida la pioggia e come l'acqua bagna e bagna. Io non lo so, mi sembra. O forse questo è un uomo che è rimasto con la mano sulla tastiera. Un computer che fa uso di allucinogeni. Esatto. Qual è? Allora, che cosa decidiamo, professore? Metto computer. Va bene. Sbagliato. Questa poesia, perché è una poesia di Queneux, scrittore francese, maestro dell'attitettura combinatoria, che è un po' strapazzato. In realtà è una poesia vera. Vediamo un po' se è finito. C'è un altro ancora? Bene, Alessio. Mentre il computer elaboro il tuo punteggio, ci puoi dire come hai trovato questo test. Va, mettiamo tre. Qual è il mio punteggio? Vediamo quanto abbiamo totalizzato. Hai ottenuto il risultato di sei risposte corrette su otto. Nessun computer saprebbe fare meglio di te. Ci siamo salvati. Bene. Menomale. Grazie, Alessio. Grazie mille. Allora, Nicola, Raffaele, che cosa ci dimostra? Come possiamo salutarci e lasciarci anche alla luce di questo quiz che abbiamo fatto sull'opera intellettuale, su come lavori come i nostri o come chi utilizza in qualche modo l'intelletto possono essere coadjuvati con l'aiuto della robotica e soprattutto delle app? Per concludere con una notte ottimistica, la domanda iniziale che ci avete fatto era se i robot sono qui, se i bot, nel caso di noi giornalisti, sono qui per sostituirci. La risposta è probabilmente no, nel senso che è molto probabile che i bot addemperanno ad alcune delle funzioni che oggi fanno già i giornalisti, quindi scrivere, magari compilare degli articoli più rutinari e più veloci e più rapidi, lasceranno al giornalista la possibilità di concentrarsi su aspetti qualificanti, cioè magari il giornalista presente ad un evento potrà raccontarlo più nel dettaglio e trovare dei dettagli di colore, oppure potrà dedicarsi a delle inchieste un pochettino più approfondite, magari coadjuvato dal bot. Diciamo che il futuro probabilmente risiede in una collaborazione sempre più stretta tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana, esattamente come diceva prima il professore nell'ambito della medicina, potrebbe avvenire la stessa cosa e dovrebbe avvenire la stessa cosa anche nell'ambito del giornalismo. Ecco, allora, per chiudere e davvero andare in pubblicità, rispondendo alla domanda del giorno e anche alle domande dei social, migliorerà o peggiorerà la nostra vita? Qui sembrate tutti d'accordo, migliorerà, giusto professore? Migliorerà senz'altro. Un esempio eponimico è quello del tennista Djokovic, campione del mondo, che quattro anni fa si sottopose a uno dei primissimi interventi di chirurgia robotica con la nostra equip e da quel momento in poi ha cominciato a scendere a livelli altissimi, riducendo al massimo tutte le sue problematiche sulla colonna cervicale. Perciò sicuramente il miglioramento ci sarà e sarà fruibile a bassi costi, allorché saremo in grado di aumentare il rischio di impresa investendo in una metodica che non ne eluderà l'uomo, ma ne migliorerà il rendimento e creerà equip molto formate, molto polarizzate al benessere a 360 gradi. Allora, aiutatemi a capire la percentuale dei nostri telespettatori che invece è convinto che la vita sarà peggiore. Di che cosa hanno paura, Raffaele? Ti chiedo un parere, un pensiero, così una valutazione finale in pochi secondi. Secondo te? In gran parte hanno paura di ciò che non conoscono e di ciò che non conosciamo e in effetti hanno abbastanza ragione, nel senso che le potenzialità negative e positive dell'intelligenza artificiale sono ancora tutte da esplorare e quindi è una legittima paura di ciò che non conosciamo. Dall'altra parte c'è anche tutto un discorso fatto soprattutto da noi giornalisti, bisogna dire, sulla pericolo di sostituzione di una serie di lavori, di una serie di attività umane da parte di robot ed è un rischio che viene sottolineato anche da importanti istituzioni. Ma paura umana, no? Per concludere, diciamo, una... È una sensazione che... Una paura umana, ma ripeto, è una paura che da un certo punto di vista è giustificata. Quello che noi possiamo fare è cercare di leggere il presente, cercando di indovinare il futuro e sapendo che per quanto possiamo il futuro lo possiamo determinare noi con le nostre azioni oggi e con le nostre decisioni oggi. Nicola, quindi ancora decidiamo noi e davvero ci salutiamo. Senza dimenticare infatti che tutti questi robot, tutti questi bot sono programmati da noi, sono creati da noi, quindi siamo noi che diciamo cosa deve scrivere e come deve scriverlo, quindi non abbiamo ancora i computer e i bot che programmano noi umani, quello ci potrebbe fare più paura. E insomma, speriamo di non arrivarci. Grazie a Nicola Bruno, grazie a Raffaele Mastro Lonardo e grazie a Professor Panfili, in bocca al lupo, naturalmente per il suo lavoro. Ci salutiamo così, grazie a tutti, il telegiornale del 17 con la Vigna Spingardi, noi domani saremo puntuali insieme ancora alle 15. Buon proseguimento, grazie davvero.